Cari amici benvenuti, non so cosa ne pensate voi ma di tutti gli auricolari che ho provato negli ultimi mesi, ormai forse anche qualche anno, diciamo che sono più o meno tutti simili. Intendo dire che dopo una certa cifra, quindi auricolari che costano da un tot in su, si trovano sempre dei buoni prodotti, comunque una qualità audio più che buona, con la NC, con un'autonomia molto simile. Quindi come dire, il mercato degli auricolari negli ultimi mesi e qualcosa di più è un po' in stallo. E alla fine acquistare un prodotto anziché un altro è principalmente legato all'offerta del momento e alle preferenze personali. Per fortuna, a quanto pare, riusciamo ad avere finalmente una rottura e l'abbiamo con Sony, che porta sul mercato una tipologia di auricolare che realisticamente non abbiamo mai visto prima. Cioè un prodotto che non si può nemmeno definire in-ear, un auricolare normale, un qualcosa di nuovo. L'unico collegamento con gli auricolari che abbiamo visto fino adesso è il fatto che si tratta di un modello True Wireless. Quindi adesso andiamo a vedere questa nuova tipologia di auricolare che si chiamano Link Buds, cos'hanno di speciale e a chi sono rivolti. Intanto li vediamo, la scatolina è piccolissima, è veramente sta in una mano, si apre a conchiglia in questa maniera. Lo notiamo subito anche nella plastica esterna, si tratta di plastica riciclata. Anche la confezione è fatta in cartone riciclato, lo notiamo perché si vede un po' di impurità che in realtà però fanno anche, come dire, un bel effetto estetico. La custodia è assicurata da questo pulsantino anteriore, si clicca, si apre. La molla del coperchio non è, come dire, così forte, però insomma va più che bene. Un led qui davanti per mostrare lo stato tendenzialmente anche dell'abbinamento, perché per abbinarli è necessario premere il pulsante che troviamo qui dietro. E sarà questo led che lampeggerà per dirci che è in stato di accoppiamento. Abbiamo una batteria chiaramente per ricaricare gli auricolari quando riposti e una porta USB-C per la ricarica della batteria della custodia. Comunque adesso non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere come sono fatti. Magnetico il collegamento e hanno un design molto particolare e la particolarità sta nel fatto dell'esistenza di una nuova tipologia di driver. A ciambella, non saprei come definirlo, questo piccolo, insomma, anello. Dietro qua si trova il driver che, vi dico già, suona meglio del previsto. Meglio del previsto perché appena io ho visto questo nuovo design chiaramente ho detto, ok, un nuovo concept, un nuovo prodotto, come tanti che ci provano, poi alla fine le prestazioni sono talmente di basso livello che è meglio, come dire, lasciarlo lì dov'è perché non è che poi suona o ha delle caratteristiche, le prestazioni così buone. In realtà mi ha letteralmente sorpreso. Questo driver circolare ha un buco in mezzo, non so se chiaramente si vede, e di fatto lo possiamo definire un auricolare aperto, anche se suona un po' strano questa definizione, me ne rendo conto. Non manca il sensore per capire quando indossiamo e quando togliamo dall'orecchio l'auricolare ed è tenuto tutto in sede, quindi nel nostro orecchio, tramite questa piccola alettina. Nella confezione sono presenti cinque misure che semplicemente allungano questa alettina perché utilizza una piega dell'orecchio, questa piega dell'orecchio, per rimanere in sede. Come si indossa? Semplicemente inserendolo nell'orecchio in questa maniera e lasciandolo in questa posizione, cioè non deve essere inserito dentro all'interno dell'orecchio, come se fosse appunto un in-ear. Quindi questa piccola alettina è sufficiente per tenerlo bloccato. Rispondiamo subito alla domanda di qualcuno che sicuramente si sta chiedendo, vabbè, lo metti qua, appena ti muovi un po' ti salta fuori dall'orecchio. In realtà non è così, è anche IPX4, quindi può sopportare tranquillamente il sudore, potete utilizzarlo quando vi allenate, e adesso non posso sbattere la testa troppo velocemente, se no rischio di svenire, in ogni caso rimane veramente bello, come dire, fisso all'interno dell'orecchio. Chiaramente le nostre orecchie sono tutte differenti, non posso dire che sul 100% delle persone funzionerà in questa maniera, però io e altri recensori hanno individuato che comunque sta bene nell'orecchio e quindi offre un, come dire, un ancoraggio sicuro anche per allenamenti, per spostamenti e movimenti un pochettino più concitati. Nella parte collegata a questo nuovo driver circolare ad anello abbiamo questa piccola cupola in cui c'è dentro tutto il resto, quindi c'è dentro la circuiteria necessaria per farlo funzionare, la batteria, il ricevitore, il trasmettitore Bluetooth, insomma tutto quello che serve. Una volta che l'abbiamo inserito nel nostro orecchio ci chiediamo come inviare i vari input, io inizialmente appena l'ho messo senza, come dire, andare a leggere le istruzioni, ho iniziato a picchiettare sopra a questa cupola. In realtà è dotato, questo ricolare, di un nuovo sistema che permette di rilevare le vibrazioni che derivano da questa zona circostante vicino all'orecchio. In pratica il doppio, il tap, il doppio tap, il triplo tap, lo facciamo non sull'auricolare, bensì su questa zona sotto alla tempia, in questa maniera. Ha bippato l'auricolare perché ha ricevuto l'input e adesso fermo la musica. È presente solamente il doppio, il triplo tap, proprio perché per evitare con un singolo tap, come dire, una vibrazione che arriva dal muovere la mandibola o comunque un qualche tap accidentale, quindi è stato eliminato il singolo tap. Questo diminuisce la quantità di input che si possono dare, però sono configurabili tramite l'applicazione su due aricolari differenti, quindi riusciamo tranquillamente a rispondere alle chiamate, mettere in pausa la riproduzione, farla ripartire, tornare indietro, andare avanti sulla traccia successiva, quindi come dire, tutto necessario c'è, si può anche controllare il volume, basta andare a impostarlo dall'applicazione. Ma perché questa tipologia di auricolare? Dopotutto gli auricolari sono fatti per isolarsi, soprattutto gli in-ear, c'è la NC, la cancellazione attiva del rumore proprio per limitare i rumori circostanti, quindi con questo auricolare col buco, questa ciambellina con il buco, eliminiamoci e non riusciamo a ottenere tutto quello che solitamente siamo abituati, che vogliamo dell'auricolare. Sembra forse un po' controintuitivo, ma questo nuovo approccio in realtà funziona molto bene, perché ci sono tante situazioni, da quando vi allenate, che comunque bisogna evitare di isolarsi completamente dall'ambiente, a quando siete al lavoro e quindi magari avete, non so, il vostro capo che vi può chiamare da un momento all'altro e gli girano le balle ogni volta che dovete togliere l'auricolare, scusa, che cosa hai detto, situazioni di questo genere, quindi riuscite a mantenere il contatto con la realtà avendo comunque un sottofondo musicale buono, perché la qualità audio, come accennavo inizio, è buona, è veramente buona. Diciamo che da una scala da 0 a 10, dove 0 è inascoltabile, 10 è audiophile, un bel 7 e anche qualcosa di più se lo merita. Non ci sono bassi super profondi, come succede spesso con le in-ear, proprio perché tappano il condotto intuitivo e quindi riescono ad amplificare le frequenze basse, quindi il colpo del basso delle nostre canzoni, però è abbastanza lineare, si ascolta bene ogni tipologia di musica. Ci sono anche i microfoni, c'è un algoritmo basato su intelligenza artificiale, il machine learning che elimina il rumore di fondo, abbiamo fatto tante chiamate, si sente bene e ci sentono bene, quindi sotto il profilo audio comunque è un buon prodotto, nonostante questo design nuovo e un po' particolare. Chiaramente non c'è la NC, non serve, non funzionerebbe in questo caso, non è compatibile con i formati audio ad alta qualità, non è un prodotto che Sony ha pensato per chi vuole ascoltare musica ad altissima qualità, appunto è un prodotto differente, per quello ci sono l'XM4 auricolari con cancellazione del rumore e tutto quello che volete, è un prodotto differente. Io avendolo provato ormai da diverse settimane, innanzitutto la cosa più bella di questi auricolari è che sono veramente confortevoli. Io ho un orecchio molto sensibile, di conseguenza soprattutto con gli near non resisto molto, devo toglierli spesso, devo far respirare l'orecchio, no, dico così anche se un po' scorretto come termine, devo riposare perché l'orecchio si affatica, in questo caso riesco a tenerli indossati tutto il giorno, dalla mattina alla sera, riesco a parlare con le persone, alle volte parlo anche con le persone con la musica di sottofondo. Il modo in cui descrivo io l'esempio più, come dire, secondo me calzante, è come avere nella propria stanza uno stereo, comunque un altoparlante che riproduce dell'audio, ok, un audio ambientale e voi siete dentro nella stanza, parlate con i colleghi, con gli amici, li comprate normalmente, insomma, in questo caso avete lo stesso effetto, ma quell'effetto è creato da questo auricolare e vi segue sempre, come vivere in un ambiente dove c'è una filodiffusione continua in tutte le stanze con la musica che vi segue, in cui potete ugualmente però parlare tranquillamente con le persone. Oltretutto esistono gli automatismi, presenti anche sugli altri auricolari di Sony, grazie all'applicazione, come il riconoscimento automatico della vostra voce, quindi si mette in pausa la riproduzione, quando rileva la vostra voce capisce che state parlando con un'altra persona, regola in automatico il volume in base alla situazione, insomma, tutti gli automatismi dell'applicazione Sony. Se avete Windows e se avete Android potete anche abbinarlo con il pairing, quello veloce, viene riconosciuto praticamente in un attimo dallo smartphone a livello di sistema e quindi vi chiede se volete abbinare l'auricolare. Se avete un iPhone semplicemente dovrete effettuare il pairing Bluetooth classico tenendo premuto il pulsante con la classica procedura. In termini di autonomia abbiamo circa 5 ore di autonomia sulla singola carica e riuscite a ricaricarlo un paio di volte, quindi in totale una quindicina di ore, qualcosa meno di autonomia che soprattutto sulla singola carica non è malvagio, diciamo che è nella media. Tuttavia per me con un prodotto di questo genere un'autonomia più elevata si sente un po' la mancanza, come dire, proprio perché è un prodotto che si tende a tenere indossato continuamente, non lo si toglie, non lo si mette nella sua custodia proprio perché è comodo, non ve ne accorgete, riuscite a parlare, riuscite a fare le chiamate, riuscite a vivere normalmente in tutte le situazioni della vostra vita con l'auricolare addosso di conseguenza ne è capitato ben più spesso rispetto al normale auricolare di ricevere la segnalazione di batteria scarica. Per fortuna ce la ricarica veloce che in 10 minuti di ricarica vi dà oltre un'ora di ascolto, però questo è un punto su cui secondo me Sony dovrà lavorare molto per sviluppare magari un futuro Link Buds 2. Insomma, sono due auricolari nuovi, un prodotto che funziona, secondo me è un prodotto che va incontro a necessità specifiche. Potrei dire per tutti coloro che hanno bisogno di un auricolare da indossare continuamente in tante situazioni e che soprattutto non vogliono chiaramente isolarsi dall'ambiente circostante. Se siete tra queste persone, questi nuovi auricolari sono fatti per voi. Io vi ringrazio per avermi seguito in questa video recensione, vi lasciamo qui sotto in descrizione il link anche del sito e dell'articolo se volete guardare tutti i vari dettagli di queste auricolari, approfondire qualcosa, fateci sapere cosa ne pensate di questa novità, quantomeno una ventata d'aria nuova nel mondo degli auricolari e per quanto mi riguarda, mi ha convinto, è un prodotto che ha senso esistere. Anche per quanto riguarda il prezzo, stavo quasi scordandomelo, sono un prezzo di listino previsto di circa 170 euro, poi sempre qui sotto in descrizione vi lasciamo il link così potete vedere l'attuale prezzo a cui sono venduti. Grazie per avermi seguito e noi ci vediamo in un altro video. Ciao!